Ben trovati la TG della Mobilità nei sottovia di Corso d'Italia, dalle 22 alle 5 domani mattina, chiusure notturne per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, il cantiere attivo fino a sabato 20 maggio. Durante il cantiere deviate le linee di bus 89, 490 e 495 in direzione di Piazzale Clodio, Circonvalazione Cornelia, via di Valle Aurelia. Le altre notizie, sabato doppia manifestazione in città con deviazione del trasporto pubblico dalle 14 alle 18, un corteo da Piazza della Repubblica raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via Giovanni Amendola, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, via Merulana e via Emanuele Filiberto. Previste deviazioni per 26 linee di bus allo stiense nelle stesse ore, corteo con partenza e ritorno al Parco Schuster. È tutto dal Tg della Mobilità.